Ultimo e finale stralcio di informazioni per Tenetines Wonderlands, probabilmente per il prossimo mesetto, salvo interviste sorpresa. Avviamo un dev blog numero 2 su amici nemici e potenza di fuoco, con alcune informazioni carine, un po' di lore, e delle bombe atomiche, se sono veramente quello che hanno scritto. Quindi, partiamo dal classica parte peggiore dell'articolo, e cioè i nostri due compagni, Valentine e Fretti, il robot e l'altro ragazzo che abbiamo visto in numerosi trailer. Viene detto che Tina sarà onnipresente, qualunque cosa tu faccia c'è sempre Tina in mezzo che sta facendo qualcosa, quindi cambierà spesso le regole della partita, probabilmente, e a me la cosa va benissimo, più inaspettata meglio è. Mentre gli altri due NPC, Valentine, che è appunto l'umano, non sa giocare a Bunker and Badasses o D&D, ma è semplicemente uno spavaldo che fa tutte le robe a caso, mentre l'altro è Fretti, che sa giocare benissimo e vuole diventare una sorta di macchina della morte. Dice che in base alle scelte che farai, uno o l'altro ti andrà a fornire consigli, a provare o criticare le tua azioni, quindi è probabile che possiamo fare delle scelte. Mi aspetto che non arrivi oltre a livello di The Witcher o Cyberpunk, però se ci sono delle cose che possono cambiare l'esito delle missioni, eccetera, schifo non mi farebbe, devo essere abbastanza sincero. Inoltre hanno detto che hanno voluto, visto l'esperienza che hanno avuto per colpa del Covid, cercare di rendere questi due compagni di avventura più vicini e veramente compagni di avventura, non degli NPC chiarissimi perché anche loro si sentivano soli durante questa pandemia. Abbiamo poi un pozzettino di storia sul Signore dei Draghi, il cui velocissimo riassunto è Il nome è banale perché Tina ha scelto così, non perché non sapevamo cosa fare, capirete poi perché. E a me come spiegazione va bene. Abbiamo un po' di spiegazione sulle armi, che abbiamo già visto in passato, Ma abbiamo anche la classica spiegazione sul fatto che sono composte da parti diverse, elementi, rarità, eccetera. Ma parlano anche della balestra, che abbiamo visto si può attaccare al fucile, quindi la possiamo attaccare noi, o lo troviamo così come parte, come barrel, ma... Però hanno detto che qualsiasi cosa pazza gli venga in mente la faranno, perché tanto hanno sempre la scusa di dire Eeeh, è magia! E poi abbiamo un pochino di cose interessanti. Sugli deflettori, purtroppo esistono, anelli e incrantesimi che vediamo, abbiamo già visto nel video precedente, Ma abbiamo un pochino di info in più sui deflettori. Ci saranno cinque temi di deflettori diversi, alcuni ricordano una superficie inscanfibile, Mentre altri sono più naturali, hanno un tema generale, alcuni assomigliano a un Necromonicon, Uno è più steampunk, con granaggi, rame, molle e quant'altro, uno sembra una pianta velenosa, funghi rampicanti, tossine e così via. Quindi vedremo come funzioneranno. Speriamo che almeno abbiano barre diverse e non sia tutta energia blu, perché è veramente noioso, se no. In più si parla degli effetti del lancio, degli incantesimi e in più in generale dei particellari. Hanno detto che rispetto a Borderlands 3, qua hanno messo tutti gli effetti che gli parevano. Borderlands 3 era molto limitato a livello di particellari e comunque era pieno. Qua proprio si vogliono scatenare, però non vogliono esagerare per evitare che se uno gioca in co-op gli venga letteralmente da vomitare colori quando vedono tutti quelli particellari. Quindi vedremo un po' come andrà. E qui c'è la bomba. Fra tutti gli effetti a cui è lavorato per Tiny Tears Wonderlands, un lavoro che è rimasto nel cuore di Ashley è quello sui vari portali che ti trasportano da un livello tra i livelli di caverne dungeon. Caverne dungeon, possiamo andare a vedere, non abbiamo ancora informazioni. Sappiamo solo che sono ricche di grotte, sono grotte oscure e rovine fattiscenti in cui si nascondono tesori incredibili e orrori spettrali. Non sappiamo altro che sia questa finalmente qualcosa di Stile No Man's Sky, Risk of Rain, Gunfire Reborn, di procedurale che va a creare vari dungeon casuali. Speriamo. Qua si parla di portali che ti trasportano tra i vari livelli, quindi sicuramente saranno strutture che hanno due, tre, quattro livelli. I portali ne abbiamo visti alcuni nel trailer. E qua si parla di questa cosa, visto che si parla del designer che si vanta, che dopo mesi di lavoro è riuscito a creare dei portali che sono effettivamente 2D, sono piatti, ma se visti da di fronte sembrano 3D. Si parlava di questo. Poi si parla di nuovo degli effetti, delle varie cose che vogliono sfruttarli al massimo, lo ripetono un'altra volta, quindi vedremo, ma dal trailer i particellari sono veramente, veramente fighi. E con questo si conclude questa batch di informazioni su Wonderlands. Quando si saprà qualcosa di nuovo, ovviamente, vi farò altre guide. Vi invito a cliccare qui per vedere la mia analisi dell'ultimo trailer. Grazie per la mia analisi dell'ultimo trailer.